Un Bari dei due volti si inceppa al San Nicola. La capolista del Girone Inu va oltre l'1-1 contro la Cireale, riscattandosi parzialmente nel secondo tempo. 20 minuti al piccolo trotto, i siciliani la sbloccano su cross dita lotta, Manfred ha tutto il tempo di controllare di destro e di calciare a giro col sinistro. Nulla da fare per Marfella, l'ultimo gol al San Nicola toccò un altro Manfred con la maglia del Marsala. Servirebbe un'altra rimonta ma il Bari non carbura e contro la squadra più in forma del Girone è tutto più difficile, soprattutto se l'unica occasione del primo tempo è fallita malamente da Pozzebon, liberatosi al tiro su cross di Quagliata. Proteste per una rispinta di Gambuzza poco prima dell'intervallo e si riparte con Simeri al centro dell'attacco. La squadra se la carica Brienza ma la palla è sul destro e il portiere rispinge. Poi ci prova di Cesare di testa da calcio d'angolo, il tempo è quello giusto, la mira un po' meno. La Cirale cala, Cornacchini attinge dalla panchina, la carta giusta Iada resta al posto di Bolzoni. Cross di Brienza incornata vincente del numero 18 al primo gol in bianco rosso. La doppietta potrebbe arrivare subito dopo, di nuovo di testa, ma stavolta l'ex latina è impreciso. È il momento migliore dei padroni di casa, cross di Quagliata, colpo di testa di Piovanello, errore clamoroso di Simeri che centra il portiere a un passo dalla porta prima che la palla caramboli sul palo. Ancora emozioni nel recupero, Brienza rimedia la seconda munizione ma in 10 contro 11 il Barri sfiora ugualmente il sorpasso quando su punizione di Neglia di Cesare schegge il palo di testa. Il vantaggio sulla Turris scende a 9 punti ma a 9 turni dalla fine resta decisamente rassicurante.